Sei andata giù a vedere i mirtilli? I mirtilli sei andata a vederli? No, i mirtilli no. C'è un goccio di caffè? Mi stanco subito, non so perché. Ti vedo perplessa, come posso aiutarti? No, io dovrei dormire, la notte è fatta per dormire, non è fatta per su e giù e giù e su e su e giù, per disfacolle, per chiedersi, per fa caffè. Prima, papà fa troppo caldo la sera, un bagno è sempre bollente, non so, io devo dirglielo papà, perché è sempre bollente? Adesso questo l'ha spento, ho detto di spegnere perché era troppo, era qui diceva la stufa è troppo, questo l'ha spento. Ho sentito una macchina, ho sentito una macchina. Ladri, si è fermato? No.